1, 2, 3, 2, 1, vai Bella a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video Oggi siamo qui con degli easter egg molto simpatici Su delle mappe di Ghost Allora, oggi andremo a vedere 3 orsetti situati nelle mappe Allora, vi avverto già, non commentate Si usi i Yakuza, i Zruki No, questo è tutto vero Cioè, ecco Allora, prima mappa, Sovereign Mappa della costruzione dei carroarmati Comunque un'industria, sembra Comunque qualcosa, non so Una fabbrica Allora, dovete prendervi un cecchino Possibilmente anche con zoom variabile per un prossimo orsetto Ah, apriatene un a caso, io adesso sto schifo qui Allora Oggi ci sono anch'io Jess Frank E commenterò anch'io un po' il video Ma la maggior parte del video sarà legata con Jess Myber Allora, rieccoci torna... ecco Ci sono ancora io A rompervi le palle con questo video Allora, dobbiamo andare qui Se ne frega Allora, questo corridoio qui Mirate dentro su quei computer lì Cosa vedrete? Vedete un simpaticissimo orsetto da massacrare Della saga zombie dei precedenti capitoli Non so perché sia vestito da muratore Forse può essere anche un po' Una presa per il culo della parte dei creatori di Call of Duty E ci vediamo la prossima mappa No, no, ok Questa è la mappa Sovereign Forse l'ho già detto, mi ricordo Sì, volevo aggiungere una cosa Che l'orsetto Se volevo rischiare Giocato per i vecchi Call of Duty Ovviamente i più belli A parte questo schifo Immondo Immondo Si trovava l'orsetto nella cassa Quello che tutti odiavamo Che volevamo bruciare E niente, era solo una piccola curiosità Allora, prossima mappa Aspetta, qual'era? Ok, quella dove Questa qui Stormfront Un nome un po' strano Allora Andiamo qui E qui vi servirà lo zoom variabile Molto importante Cioè, si vede lo stesso No, l'ho messo Si vede lo stesso l'orsetto Però Con lo zoom variabile Si vede ancora meglio Allora, questa mappa Non so che cacchio sia Comunque Una roba così Questi orsetti sono stati scoperti da noi Almeno credo L'ho visto solo L'ho visto uno Su Youtube Non di più E spero che Vi piaccia Questo video E vi anticipo di mettere un bel like Anche se Pazienza Ok, ora che si carica Un paio di annetti Ancora Ok Allora Avviate il vostro cecchino Con zoom variabile E anche qui Dovete dirigervi Sulla strada principale Che è Questa qui Allora Ma No, cioè Ok Cancella Molto bello Cosa dell'Hissbox vocale Ma a volte scassa Un po' Il cacchio Allora Ci dirigiamo su queste palme qui No? Anche se non ce ne è bisogno E miriamo quel palazzo là A No Scoop Dopodichè Cosa dobbiamo fare? Semplicissimo Miriamo Sulla O di Union Su quella scritta lì Mezza rotta Miriamo Al massimo zoom E come si può vedere Vediamo qui Si vede un orsetto Con una bottiglia di vino Ecco L'ho fatta cadere Vediamo se è caduta Vabbè Lì c'è l'orsetto Sempre Si riferisce a quelle Ah sai che precede Hai sai Cazzo dico Allora Vediamo Dai dimmi che c'è Va bene E passiamo avanti Sì Allora Terza e ultima mappa Oh E' nero Boh Allora L'ultima mappa E' Freight Un nome del genere Allora Dai Madonna quanto è lento Impostazioni di gioco No che Freight Sì 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 La terza missione della campagna Dove voi State camminando per le strade Arriva il getto Che vi investe No io non me la ricordo Sì Che tu sei Ros Sei Elias Ah sì No 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 Quale cosa di tarani con l'estate Dai non ci vado Sì Sì Quanto non ci vado E speriamo Un paio di annetti Dai Che ce la facciamo E' morta mia nonna adesso Dai Madonna MTS Qui non mi serve un cecchino Anzi no lo metto Perché Non si sa Mira anche al massimo No qui invece vi serve tantissimo la mira Vi serve la mira al massimo Dato che si può vedere solo da qui No scherzo Allora Muoviamoci perché Non può durare troppo sto video Dato che Sono tre cagatine Allora Forza Allora Qui Oh merda Prima che cadiamo come prima Allora qui c'è questo Cazzutissimo Ancora Questo cazzutissimo bus In affondamento So che se ci andate sopra Affonda ancora di più E poi te l'ho messo Allora Dovete dirigervi Su quel tubo lì Non so se si vede Allora Qui vi salvate il quill Perché Non si sa perché Perché non si sa perché C'è un rialzamento Non si capisce Che vi fa Che vi fa vivere Cioè Boh E' un normale Punto Vabbè Qui C'è una scaletta invisibile Noi non ci saliamo Dopodiché Non saliamo qui E non miriamo E non troviamo l'orsetto Perché non c'è Oh me E' visibile Anche qui Anche da qui Ed c'è la bitch Allora Ci vede Bene Il video è finito Vi ricordo di lasciare un commento E di lasciare un like E di iscrivervi al nostro canale Qui siamo i Ghost Master Che vi parlano Ci vediamo alla prossima Ciao